Seduta ad allenamento pomeridiana per il Palermo, che ha iniziato oggi il percorso d'avvicinamento al match di sabato sera contro lo Spezia, valido per la prima giornata del campionato di Serie B. Per il Rosanero, al tenente onorato di Bocca di Falco, dopo i lavori di prevenzione e attivazione in palestra, esercizi tecnico-tattici in campo. La seduta è stata conclusa da un lavoro atletico e prima dell'allenamento il difensore Rosanero Schmischi ha parlato così dopo i primi giorni di lavoro con la maglia del Palermo. Sono molto contento perché anche se non ero un match ufficiale è stata comunque la mia prima partita con la maglia del Palermo. Piano piano mi sto ambientando, ho capito come vuole lavorare il mister, mi sto ambientando bene con tutti i miei compagni e penso che sia la strada giusta per lavorare bene e per migliorare. E nella giornata di oggi è stato ufficializzato il nuovo main sponsor del club rosanero per la stagione 2017-2018, sarà Sicily by Car S.P.A. Le maglie rosanero brandizzate Sicily by Car verranno presentate alla stampa domani alle ore 11 presso la Sala degli Specchi di Villa Niscemi.